Ultimo ma non ultimo, anzi è ben arrivato in casa Empire, il nuovo Ultrabook, questo è un prodotto trasversale per quanto riguarda le linee di device che vi ho fatto vedere in questa intervista, perché questo è un prodotto che nasce sia per il mondo consumer sia per il mondo business, ha due piattaforme, quella Winset Home Premium e Winset Professional, all'interno dei due segmenti ha chiaramente delle caratteristiche diverse, però quello che noi abbiamo fatto come scelta è quella di installare essenzialmente delle memorie SSD, quindi non crediamo negli Ultrabook con l'hard disk vecchio stampo, ma pensiamo che veramente oggi il consumatore sia attento a quello che è la velocità del prodotto e quindi con l'SSD vi posso garantire che si guadagna moltissimo, a quello che è nella velocità dell'accessione, quindi la possibilità di fare l'instant on e soprattutto allo spessore, alla portatibilità e alla durata delle batterie che si aggira intorno alle 8 ore. Questo è un prodotto che nasce su piattaforma Intel, quindi avremo il prodotto Core i3, Core i5 e Core i7, le varie configurazioni, quando noi essendo un designer abbiamo realizzato il design dai nostri disegnatori, lo abbiamo fatto realizzare e noi qua in Italia lo integriamo con processori, memorie e hard disk. Questo prodotto sarà commercializzato dai primi di settembre, sarà sicuramente all'interno dei punti vendita Empire presenti sul territorio italiano e ci saranno alcune esclusive che vi daremo in concessione. La versione che vedete, abbiamo anche qua scelto il colore antracite perché pensiamo che possa essere un qualcosa che rende il prodotto ancora accattivante verso il consumatore.